Inizio prima di tutto con ringraziarvi per il raggiungimento dei 1000 iscritti al canale sperando che sia solo il primo di tanti obiettivi futuri. Proseguendo è ufficialmente iniziato il primo contest ufficiale della page che permetterà a uno di voi di poter scegliere liberamente il tema del video che uscirà il 23 settembre 2020 dopo l'atteso video riguardante Satana che uscirà invece il 16 settembre 2020. Quindi tenetevi pronti. Per poter vincere è necessario fare tre semplici passi, essere iscritti a questo canale, essere iscritti alla pagina Instagram settore 0, link in descrizione, e mandarmi su Instagram tramite messaggio privato lo screen della home di questo canale YouTube. Chi eseguirà correttamente questi tre passaggi riceverà un numero identificativo che, se verrà estratto dal generatore random di numeri Google, decreterà la sua vittoria e verrà contattato privatamente da me su Instagram per parlare dei dettagli. Sarà possibile partecipare dalle 13 del 1309 2020, quindi da adesso, fino alle 13 del 1409 2020, cioè domani. L'estrazione verrà fatta in live Instagram il 1409 2020. Per qualsiasi dubbio scrivete un commento o contattatemi privatamente su Instagram. Buona fortuna! Grazie per la visione ed attenzione!